Bormio Museo a cielo aperto per le festività natalizie, le antiche vie della magnifica terra infatti ospitano sette sculture dell'artista trentino Guglielmo Bertarelli. Per Bertarelli in arte il Duca la trasferta valtellinese non è una prima, già ospite delle rese basse dello scorluzzo, l'artista ha donato alle maestose montagne dello Stelvio una Madonna delle Nevi. Qui a Bormio sono sette sculture, quattro sono già conosciute, sono già state viste da migliaia di persone, Bormio tiene a battesimo tre nuove sculture del Duca che sono sculture in ferro che sono esposte qui davanti alla collegiata, sono sculture ipermoderne e sono delle coreografie in marmore nella scenografia in ferro della scultura stessa. E questa è diciamo la novità dell'esposizione qui a Bormio. A parlare nelle tre nuove opere poste sul sagrato della collegiata in piazza del Querc è la candida sinuosità della figura femminile, la Madonna, la patrona dei claudicanti e quella dei non abbienti. Soggettivo l'invito alla lettura Bertarelli lascia alla libera interpretazione dell'osservatore il messaggio finale dell'opera. La scultura c'è ed è presente, si materializza nello spazio arrivando allo spirito di chi la percepisce. La chiave di lettura di queste tre opere che ci sono qui sul sagrato della chiesa hanno soltanto uno scopo, di far riflettere le persone che anche nella modernità o la ipermodernità del giorno d'oggi, la figura scultorea esiste sempre e va interpretata in base all'esperienza che la persona ha, personale. Io posso metterlo il titolo, posso metterlo, però è chi lo soffruisce che deve capire e farsi proprio, farsi propria l'idea dell'artista. E' un messaggio che dà agli altri.